Il Trapani da questo pomeriggio, dopo i giorni liberi concessi domenica e ieri, riprende con gli allenamenti preparatori al campionato di Serie D, che avrà inizio domenica 19 settembre. I Granata si sono spostati in via del tutto provvisoria a Fulgatore, a causa dei lavori sul manto erboso del campo del provinciale. L'impianto sportivo si avvicina sempre più a diventare la casa del Trapani, con la neosocietà Granata che lavora da settimane all'interno degli uffici della struttura. Chi c'è stato nel passato e vuole esserci nel futuro è il capitano Luca Pagliarulo, che ieri ha compiuto 38 anni. Il record di presenze con la maglia del Trapani è uno dei suoi obiettivi personali. Sono due obiettivi personali in questo momento, quello di raggiungere le presenze, il record di presenze, cercando di guagliare di Francesci e in più riportare il fatto. L'esperienza dell'anno scorso con il Dattilo, ho conosciuto una categoria e un ambiente difficili, quindi non è semplice uscire da queste categorie. Ci sono diverse squadre che si sono attrezzate bene, la Mezzia, la Cireale, il Giarre, dipende dalla Camese se viene messa nel nostro girone. Quindi è un girone abbastanza tosto. Noi dal nostro piccolo cercheremo di fare bene. È normale che non si può promettere, non si può pensare e dire vinciamo il campionato a mani basse. Questo è un errore che non bisogna commettere, bisogna lavorare ogni giorno, cercare di far crescere i giovani perché nella Rosa ci sono tanti giovani. e crescere giorno per giorno. Il gruppo degli over è sempre importante, però in una squadra avverne quattro titolari, più altri quattro, otto, in panchina, in una Rosa. Bisogna vedere se ce li è pronti, i nostri sono abbastanza pronti, c'è chi ha fatto campionati già, un paio di campionati di Serie D. Sì, bisogna vedere come reagiscono loro all'impatto della categoria. Sì, bisogna vedere come reagiscono loro.